Due plessi scolastici, all'interno la scuola dell'infanzia, le elementari e le medie, alle spalle la sede del terzo quartiere. Un'area pubblica che quindi lascerebbe presupporre spazi curati e adatti ai più piccoli. Eppure niente di tutto questo circonda la scuola Lapira 2 e 3 a Camaro, avvolte da erba alta, strade dissestate, tombini scoperti e edifici in evidente stato di degrado. Si sperava nel progetto Scuole Belle, istituito dal Ministero dell'Istruzione, per qualche piccolo intervento di manutenzione, anche se sarebbe stato irrisorio rispetto alle esigenze. Ma la Batosta è arrivata con il no dei finanziamenti statali perché le due strutture fanno parte dell'istituto comprensivo Lapira Gentiluomo, costituito da sette scuole. I fondi sono serviti a realizzare i lavori solo in tre plessi, nessun contributo quindi per l'istituto di Camaro. Inevitabile quindi la preoccupazione dei genitori e dei docenti che, sostenuti dal consigliere del terzo quartiere Alessandro Cacciotto e dal consigliere comunale Libero Gioveni, lamentano l'assenza di interventi di manutenzione e pulizie delle aree, spesso effettuati anche da alcuni di loro volontariamente, ma sollecitano l'amministrazione comunale a farsi carico delle competenze per garantire sicurezza e decoro alla scuola. Ovviamente i genitori invocano degli interventi e anche le scuole rivendicano comunque i propri diritti. Sono state fatte comunque delle richieste inoltrate all'amministrazione comunale, però il problema come ogni anno non si risolve. Gli unici a rimetterci sono alla fine soprattutto i bambini perché stiamo parlando di plessi, scuola materna e delle scuole elementari. In questi giorni è circolata anche la voce fondata che c'è un progetto a livello nazionale, quello delle scuole belle, ma ovviamente questo progetto che per carità riguarda tutte le scuole di Messina, quelle che ne hanno fatto richieste, ne hanno partecipato, non può per ragioni anche economiche e di fondi coprire tutti i plessi scolastici. Di fatto qui la Pira 2 e la Pira 3 sfuggono da questa situazione del progetto e quindi ritengo che l'amministrazione comunale debba urgentemente intervenire per ridare condizioni di decoro alle famiglie, alla scuola e a tutti gli operatori scolastici. Un grave problema è anche quello della mancanza di un cancello all'interno. Potrà sembrare una sciocchezza, ma una sciocchezza non è perché un semplice cancello darebbe sicuramente anche più sicurezza ai due plessi. Ricordiamo che c'è anche un asilo, c'è anche una sede circoscrizionale che più volte è stata anche oggetto di atti vandalici. Grazie.